Tra poco Sul canale 17 di Fanno TV, l'informazione locale Referendum costituzionale in tutta la provincia vince il no ad eccezione di Urbino dove prevaigono i sì Matteo Ricci, sconfitta politica brutta e netta Celebrata anche a Fanno Santa Barbara, patrona della Marina Militare e dei Vigili del Fuoco I fanghi del porto, stoccati a Torrette di Fanno, resteranno ancora lì un altro anno L'assessore replica le polemiche sollevate dai grillini A Montemaggior al Metauro, questa sera Consiglio Comunale, domani trasferta ad Ancona del gruppo contrario alla fusione Questo è il telegiornale Occhio alla Notizia con Marco Ferri Benvenuti a questa edizione di Occhio alla Notizia Referendum costituzionale con uno stacco di 10 punti 55% a favore dei no e 45% quello dei sì I marchigiani hanno votato no al referendum sulla riforma costituzionale Nella vittoria, netta vittoria dei no anche a Pesaro Mentre unica città in controtendenza quella di Urbino dove hanno prevalso i sì Tra le dichiarazioni quella di Matteo Ricci, sindaco di Pesaro Che ha detto si tratta di una sconfitta politica brutta e netta Facciamo il punto, il riepilogo di come è andata questa giornata di voto con questo servizio Anche le Marche esprimono un no deciso alla riforma voluta da Renzi Alle urne si sono recati il 73%, una percentuale maggiore rispetto alla media nazionale degli eventi diritto Ed il no ha vinto con un 55% a fronte di un sì che segna un 45% L'aconico il commento del governatore delle Marche, Luca Ceriscioli I cittadini non hanno voluto il cambiamento e rilancia gli strali del dopovoto Ora, aggiunge, si dovranno restituire più risorse a livello regionale Dovendo le regioni gestire tante materie Magra consolazione il sapere che in termini di miglior risultato del sì Le Marche vantano il quinto posto Il voto in provincia ha segnato un 53% per il no e un 47% per il sì Con Urbino in controtendenza La città ducale ha sparegliato i conti facendo segnare la vittoria al sì con un 52% Contro il no che porta a casa solo il 48% Nel capoluogo di provincia, città del sindaco Ricci, numero 2 a livello nazionale del PD Che si è speso senza riserve sia a livello locale che a quello nazionale Per la carta referendaria si è assistito a un testa a testa A spuntarla per un capello si dice con solo 99 voti il no però Il ricipensiero comunque è risunto in un twitter di poche righe Che fa chiaramente capire come il sindaco di Pesaro non abbandoni il carro del perdente E rilancia Sconfitta netta, ma Renzi resta leader con 13 milioni di voti A fanno le cose non sono andate diversamente dalla media nazionale Il 46,5% è andata al sì e un 53,5% al no Nelle città limitrofe con lievi differenze si sono avuti gli stessi bilanciamenti di forze E a sottolineare che anche nelle Marche e nella provincia Che questa riforma così formulata della carta costituzionale non ha convinto i cittadini Oggi a fanno si sono svolte le celebrazioni per Santa Barbara La patrona della marina militare e dei vigili del fuoco Le ha seguite per noi Lino Balestra Le movenze lente e cadenzate dei due militari intenti nel cerimoniale dell'alza bandiera Sotto lo sguardo assorto dei colleghi e della rappresentanza del corpo dei vigili del fuoco Fanno da cornice al pensiero degli intervenuti alla cerimonia Che è andato subito ai cittadini e alle cittadine Che in questi mesi hanno vissuto momenti drammatici per il terremoto Durante il toccante momento della deposizione della corona al monumento dei caduti del mare La mente di tutti, autorità civili e militari presenti, è andata a quanti Spinti dalla disperazione, hanno affidato la loro vita alle sorti del mare Per tutti, la professionalità e il sacrificio del senso del dovere della marina militare È stato il primo porto sicuro a cui affidarsi Questa mattina alla presenza delle autorità si è celebrata la ricorrenza di Santa Barbara Con una cerimonia sobria e toccante Cadenzata da momenti salienti come al monumento ai caduti E dalla messa celebrata dal vescovo Trasarti Quello che mi piace sottolineare è che sotto una divisa ci sono uomini e donne Che oltre a fare il loro dovere ci mettono anche tanta umanità E questo è il valore aggiunto di chi presta un servizio per il paese e per le comunità E allora le istituzioni, un sindaco deve esprimere la propria gratitudine Il proprio ringraziamento per quello che fanno a favore del paese Il mare, elemento di vita e di cultura per Fano Ma anche di raccoglimento per chi fa della vita in mare il proprio lavoro In questo giorno particolare un pensiero va doverosamente rivolto A tutti coloro che hanno sacrificato la propria vita nell'adempimento del dovere E un pensiero ulteriore vorrei dedicarlo a tutti i colleghi Che anche oggi si trovano impegnati in mare A fronteggiare l'emergenza migratoria in Canale di Sicilia Santa Barbara è una santa molto popolare Grazie al numero e all'importanza dei suoi patronati Fra cui si ricordano in particolare quello sui vigili del fuoco E sulle professioni di artificieri, artiglieri, egeni e minatori A cui si affidano i momenti in cui l'imponderabile gioca una sostanziale differenza Come in emergenze improvvise tra la vita e la tragedia È una giornata in cui si ringrazia Santa Barbara Che con la sua attenzione probabilmente dall'alto Guarda i nostri compiti e cerca di darci una mano nel risolverli Spesso e volentieri nell'emergenza ci sono per definizione come emergenza Situazioni che non sono facilmente calcolabili, facilmente prevedibili Quindi in quella situazione un aiuto dall'alto anche per noi è sicuramente importante E oggi ringraziamo Santa Barbara e ci uniamo insieme per un momento di riflessione Anche su quello che è la nostra grande famiglia, i vigili del fuoco Noi ci vediamo un po' come una grande famiglia I fanghi prelevati dal fondale del porto di Fano e stoccati in un'area di torrette Resteranno ancora lì per un anno E l'assessore Paolini ci spiega anche il perché Ultimamente c'è stata una delibera in consiglio che ha destato un po' Un muoversi di acque anche se si tratta di fanghi in realtà Ma sì, si doveva prorogare la possibilità di tenere stoccati i fanghi nel deposito temporaneo di torrette Che non ha scelto questa amministrazione come sito È stato scelto l'amministrazione precedente Ma ora sono lì e finché non si possono portare nella cassa di colmata di Ancona Occorre prorogare quel deposito In assenza della proroga il comune sarebbe diventato un abusivista edilizio Quindi secondo me i consiglieri comunali l'unico voto possibile che avevano Era quello di votare a favore perché altrimenti se non fosse passata la delibera Insomma il comune sarebbe stato in gravissime difficoltà Anche sempre sul tema dei fanghi c'è un altro aspetto Che va rimarcato, cioè la possibilità in virtù di alcune analisi che sono state fatte Di disporre diversamente di alcuni prelievi Sì, noi in seguito alle ultime caratterizzazioni dell'anno scorso Siamo riusciti sempre lo scorso anno a portare a sommergimento nell'area fuori Ancona 30.000 metri cubi di sedimenti Quindi è stato un lavoro molto importante Fatto sull'imboccatura del porto Laddove le nuove caratterizzazioni Hanno fatto capire che era possibile questa operazione Perché i sedimenti erano davvero poco inquinati Avevano solo il problema della presenza di fanghi E quindi ecco Questa è stata un'operazione possibile grazie alle nuove caratterizzazioni E non grazie a una diversa interpretazione di quelle vecchie come qualcuno diceva Ora si tratta di smaltire i fanghi in classe B Quelli un po' più inquinati È chiaro che l'unica modalità che consente l'escavo e il trasporto di questi materiali È la cassa di colmate di Ancona Noi entro l'anno prossimo sono convinto che vi saranno le operazioni Complessivamente di smantellamento del deposito temporaneo di torrette Del deposito temporaneo del porto E anche una significativa quota di 20.000 metri cubi di escavo nuovo dalle darsene Il gioco d'azzardo è un problema drammatico Un problema serio che è stato discusso Un venerdì scorso in un convegno a Fano Presto anche la Regione Marche avrà una legge che detterà le regole del gioco Non un gioco qualsiasi ma quello d'azzardo Stiamo parlando della galassia di giocatori e gestori Che ruotano attorno a Gratta e Vinci Slot Machine sale gioche e via discorrendo Una legge che regolamenti questo settore E che detti quali siano i parametri giusti Oltre che dalle associazioni che si occupano di questa moderna piaga Dai risvolti sociali ed economici In alcuni casi drammatici È attesa anche dagli amministratori locali Per attuarle a cascata sul proprio territorio È una legge molto importante perché Questa delle patologie del gioco Nella nostra provincia in particolare è molto molto sentita Ma in tutta la Regione Marche è sentito questo problema Soprattutto anche oltre che nelle città Anche all'entroterra e quindi nei piccoli comuni Ed è una legge che andrà a incidere Soprattutto ci saranno dei divieti Di installazione di queste macchine Dai luoghi sensibili Cioè per fargli un esempio Per fare un esempio Dovremmo stare a 500 metri Da tutte le scuole di ogni ordine e grado Escluse le scuole dell'infanzia 500 metri per i comuni sopra i 5.000 abitanti 300 metri per i comuni sotto i 5.000 abitanti A Fano, al Cinema Malatesta Si è tenuto il 17esimo convegno nazionale del CONAG Il comitato che da tempo si batte sul fronte Della sensibilizzazione a questo dilagante fenomeno contemporaneo Più si permette alle persone di avere nuovi giochi Più diffusi sul territorio Di offrire in ogni luogo, in ogni spazio Le possibilità di giocare E in più gli si dà tutta una serie di messaggi Che gli fanno ritenere che la grande vincita Possa essere portata in mano E ovviamente le persone tenderanno a giocare di più Soprattutto, anche se siamo però paradossali Nei momenti di maggiore difficoltà economica Mercoledì prossimo si terrà a Fano un convegno Per fare il punto e discutere sui progetti Legati alla Fano città dei bambini Fano città delle bambine e dei bambini Non è solo un sogno utopico Rimasto nel limbo della fattibilità Per gli ostacoli e le volontà politiche e culturali Contro le quali inevitabilmente si è scontrato Una città a misura di bambini e quindi di pedoni è possibile Certo sono percorsi lunghi E processi di trasformazione radicali Che impongono delle scelte Alle volte anche molto coraggiose Ma possibili, anzi già attuali Lo sanno bene gli abitanti di Ponte Vedra Una città spagnola della provincia autonoma della Galizia Di 82.000 abitanti Che ha bandito quasi totalmente dal suo tessuto urbano Le automobili Guadagnandosi nel 2015 Il premio internazionale di eccellenza urbana Del Center for Active Design di New York A Fano mercoledì 7 dicembre Nella sala ipogea della Memoteca Ci saranno proprio Il vice presidente della provincia di Ponte Vedra Ed il responsabile dell'ufficio tecnico ed architettura In occasione del convegno sul futuro Di questo progetto fanese Che sta vivendo una fase di rilancio Allora le finalità sono Sostanzialmente fare il punto Sul progetto città dei bambini Che in quest'anno di lavoro è stato ripreso In modo molto sostanzioso Ci sono state già delle occasioni pubbliche Con rappresentanti istituzionali Però questo convegno vuole essere una cosa molto più concreta Sul progetto in atto Di trasformazione della città E per fare questo abbiamo chiamato Delle altre città Che ci portano le loro esperienze Per farci vedere che cosa si può fare davvero Sulla città Per trasformarla E renderla a misura di bambino Il progetto Fano città dei bambini e delle bambine Vive quindi questo momento Di fulgore Davuto anche a una serie di iniziative Che riguardano il quartiere di Sant'Orso Piattaforma sperimentale Di ciò che questa amministrazione Vuole attuare per questo progetto Abbiamo riportato al centro Il progetto Laboratorio Fano città dei bambini e delle bambine Abbiamo riportato Fano al centro Dall'attenzione Al di là anche dei grossi eventi Che hanno visto la partecipazione Di alte cariche dello Stato Ma c'è un lavoro concreto Chi si è anche nel 2016 Che ha visto un progetto su Sant'Orso Con un quartiere a misura di bambini e bambini Si è elaborato un progetto E adesso si traduce in interventi concreti Abbiamo già stanziato le risorse Per questi interventi Ma l'occasione Anche questo convegno Che facciamo Che vede la presenza Di tante esperienze italiane E anche straniere Che dimostra La valità del nostro progetto Andiamo a confronto Anche con realtà Che sono partite proprio Dallo stimolo Di Fano Tanti anni fa Che hanno dato seguito A questa idea A questa concezione Di come organizzare La città E vengono a raccontarlo Con le buone prassi Che hanno ottenuto Per i prossimi tre mesi La discarica di Monte Schiantello Riceverà circa 3.000 tonnellate Di rifiuti Provenienti dai comuni Dell'area terremotata Di Ascoli Piceno Il quantitativo Rappresenta Meno del 5% Del conferimento abituale Al sitofanese La decisione è stata presa Dalle province di Pesaro Urbino E Ascoli Piceno Che hanno siglato Un apposito accordo Che coinvolge Anche la provincia Di Ancona E serve a far fronte In maniera solidale All'emergenza Causata Dalla recente Terremoto A Monte Schiantello Verrà trasferita Solo una parte Già trattata Dei rifiuti urbani Dell'Ascolano A Monte Maggiore Al Metauro Proseguono Le azioni di protesta Del comitato contrario Alla fusione Con i comuni Di Saltara E Serrungarina Queste sera Alle ore 21 Ci sarà un consiglio comunale A Monte Maggiore Al Metauro Mentre domani mattina Un consiglio regionale Ad Ancone Per questa occasione Il comitato No fusione Il gruppo No fusione Ha organizzato Un pullman Per raggiungere Il capoluogo Marchigiano Allora Per tutti i dettagli Ci colleghiamo Con Al telefono Filippo Ruggeri Che è un consigliere Di minoranza Del comune di Monte Maggiore Buonasera Buonasera a voi E a tutti i telespettatori Ecco allora Ruggeri Innanzitutto Stasera C'è un consiglio comunale E immagino Sarà un consiglio comunale Piuttosto animato Poi domani Invece C'è questa iniziativa Che avete organizzato Con un pullman Andrete in consiglio regionale Allora Velocemente Perché queste due Perché questa iniziativa Di domani Sono due momenti Determinanti Diciamo Di questo progetto Di fusione Questa sera Abbiamo il consiglio comunale Con all'ordine del giorno Due proposte Una Del gruppo consigliare È di opposizione Da me Rappresentato Che chiede In poche parole La presa d'atto Dell'edito referendario Del 13 novembre E chiede Di interrompere Comunicare Alla volontà Il comune di Montemaggione Di interrompere Subito Il processo di fusione Quindi Di comunicare Alla regione Marche Di interrompere subito Il processo di fusione L'altro è un ordine del giorno Della maggioranza Che invece Rimette la valutazione Diciamo Al consiglio regionale Senza Senza esprimere Nessun Un diniego Ecco Diciamo Alla procedura Quindi Il dovere di fermarsi L'iniziativa Di domani Invece È Un pullman Per raggiungere Il consiglio Il consiglio regionale In quanto Alle 10 È prevista L'assemblea In cui verrà Discussa La proposta di legge 83 del 2016 Quella in poche parole Che istituisce Il comune di Coglio Il Metauro Che nasce Dalla fusione Di Montemaggiore Saltare Sero Ungarine Quindi domani Ci sarà discussione E eventuale Quindi approvazione O meno Del testo di legge Ecco Ecco Ma mi faccia capire Il problema Resta sempre quello Che insomma Lo spieghiamo I cittadini Che in questi giorni Con il referendum Sulla Costituzione Probabilmente Hanno già qualcuno Dimenticato Che qualche mese fa Il 13 di novembre Si è invece Tenuto un altro referendum Per la fusione Di tre comuni Saltara Serrungarina E Montemaggiore Al Metauro Dove i cittadini Di Saltara Hanno votato In larga maggioranza Sia la fusione Quelli di Serrungarina Lo stesso Mentre a Montemaggiore Hanno votato In tanti Per il no E quindi Per rimanere Montemaggiore Per rimanere Autonomi Il problema È che adesso Questi tre sindaci Compreso il sindaco Di Montemaggiore Che inizialmente Aveva detto Invece Io non me la sento Nel caso in cui Dovesse vincere il no Di portare avanti Questa fusione In qualche modo Ha cambiato Possiamo dire così Un po' Opinione E adesso Ha firmato Un documento Una lettera Nella quale dice Che cosa dice Ruggeri In questa lettera Fondamentalmente Alla regione Chiede alla regione Di procederne La valutazione E quindi Quindi ha cambiato idea Ecco Voi giustamente Invece dite No Noi abbiamo votato No E quindi La maggior parte Dei cittadini Ha votato No E non si capisce Adesso perché Gli altri sindaci Spingano per fare Il conteggio La somma Di tutti Certo Giusto Perché è chiaro Che saltare Quanti abitanti ha Saltare ha Quasi il triplo Degli abitanti Di Montemaggiore E quindi è normale Che serve il referendum Scusate Appunto E' quello che Continuiamo a dire Da tempo Ma qui c'è di più Cioè noi Il nostro sindaco Ha garantito Un'intervista In consiglio comunale Lo stesso Nella vostra emittente Di un'intervista Nella conferenza stampa Ha detto chiaramente E quindi I cittadini di Montemaggiore Sono andati a votare Con questo Pensiero Sicuro Cioè In caso Nel caso in cui Uscisse o no Anche nel nostro Solo Nel nostro comune Il procedimento Sarebbe stato subito Interrotto Invece Il sindaco Espegabilmente Ha cambiato idea Studi diversi Beh insomma È un'imposizione Dall'alto Che non piace Così come non è piaciuto Comunque avete Avete Un precedente Storico Che insegna Anche se Insomma Speriamo di non Arrivare a quei livelli Sto parlando Di Monbaroccio Che ha fatto Fuochi e fiamme Per non fondersi Quindi insomma C'è un precedente Importante Allora Domani andate A marciare su Ancona Poi ci fate sapere Come è andata Va bene? Va bene Grazie Allora Grazie a Filippo Ruggeri Della Minoranza Di Monte Maggiore Adesso C'è lo sport Con Matteo Del Vecchio La copertina di questa sera Come ogni lunedì È dedicata al calcio E al campionato Di Lega Pro Con l'Alma Juventus Che ieri Non è riuscita Nell'impresa Di superare La corazzata Venezia Di mister Filippo Inzaghi Se da un lato E' vero Che non è certo Con formazioni Come quella Lagunare Che occorre fare I punti salvezza E' altrettanto vero Che i 2000 tifosi Accorsi ieri Al Mancini Si aspettavano qualcosa In più Dai propri Beniamini Soprattutto dal punto Di vista del dinamismo Ci mette il cuore L'Alma Ma contro formazioni Di questo spessore Che possono vantare Il Rosa Elementi Contrascorsi In serie A e B Spesso non basta Il Venezia passa Al Mancini Con un gol Al ventesimo Del primo tempo Che è lo specchio Di quanto detto Con il Fano Che non riesce Ad arginare l'incursione Di Moreo Abile poi a scaricare Sulla destra Per Fabris Il cui tiro cross Non viene trattenuto Da Andrenacci Sulla sfera Si avventa Marsura Che insacca Quello che sarà poi Il gol partita Borrelli e Bellemo Hanno l'occasione Di impattare Prima dell'intervallo Ma peccano Di imprecisione Mentre ad inizio ripresa A far arrabbiare I padroni di casa E l'arbitro Pillitteri di Palermo Che sorvola Su un contatto In area veneta Tra Baldanzeddu E Capitan Borrelli Ammonendo addirittura Quest'ultimo per simulazione All'Alma Va il merito Di provarci Fino alla fine Ma il Venezia È abile a difendersi E a portare a casa Tre punti Che proiettano I ragazzi di Inzaghi A meno uno dalla vetta Resta inchiodata Invece Al quart'ultimo posto L'Alma Che ora è attesa Da due scontri diretti Che potrebbero risultare Determinanti Per l'esito del campionato Mercoledì a Modena E domenica in casa Con il Lumezzane Obbligo di fare punti Per i ragazzi di Cusatis Che hanno l'occasione Di dare una svolta Alla propria stagione E chi sta provando A dare una svolta Alla propria stagione È l'età beta Nel campionato nazionale Di serie B Di calcio A5 Una vittoria Che vale doppio Perché è arrivata Nel derby Contro il buldo Glucrezia Allenata dal tecnico Fanese Elia Renzoni Una vittoria Che è la seconda Consecutiva Partita sicuramente Non bellissima Quella andata in scena Al circolo tennis Fano È decisa Dalle reti di Galvao Etai e Robson Che rendono vana La provvisoria rete Del 2 a 1 Dell'ospite Aiuti Tre punti Che portano la squadra Del patron Serafini A quota 7 Due lunghezze in meno Dello stesso buldo Glucrezia Un po' più in alto In classifica È l'alma Juventus Fano Che resta a metà Graduatoria Nonostante la sconfitta Per 4 a 2 Subita a Cesena Ad opera del Torre Savio Non perde un colpo Invece il Flaminia Nel campionato femminile Che passa per 2 a 1 Sul campo del San Pietro Bozzolo Di Mantova Con le reti Di Sara Berti E Maddalena Fatica E le parate Di Susi Faccani Tre punti Che consolidano Il primato Delle Fanesi Che domenica Al Circolo Tennis Riceveranno le seconde In classifica Del Rambla Padova Apriamo ora La consueta panoramica Sui campionati Di Serie C Di Volley Che ormai Da un po' di tempo Stanno recitando Lo stesso copione Vale a dire Ebbene la Virtus In campo maschile Che grazie al 3 a 0 Sul fanalino di coda Bottega Sale al secondo posto Male Lapa Calcinelli Lucrezia In campo femminile Che a Senigallia Rimedia un 3 a 1 Che ancora Le ragazze Di fammelume Nei bassi fondi Della classifica E non sono andate bene Le cose nemmeno Al Fano Rugby Che ieri rientrava In campo Dopo le 3 settimane Di pausa Una partita Sulla carta facile Per i ragazzi Di Franco Tonelli Che forti del primato In classifica Sono scesi ad Ancona Per affrontare Il fanalino Di coda Cus La troppa superficialità Dei fanesi Unita alla gran voglia Di riscatto Dei padroni di casa Ha prodotto invece Alla fine Un 19 a 15 Per i locali Che non fa perdere La vetta Della classifica Ai rosso-blu Anche se ne ridimensiona Notevolmente L'umore Chiudiamo ora Lo spazio dedicato Agli sport giocati Per parlare Del riconoscimento Che il CONI provinciale Ha voluto attribuire Sabato Agli atleti Che si sono distinti Nel corso della stagione Tra i tanti attestati Consegnati Ben sei Sono andati a sportivi Fanesi Matteo Bellucci Campione italiano Di badminton E atleta Della nazionale italiana Manuele Lucconi Campione italiano Under 18 Di beach volley Michael Marchetti Campione italiano Di pesca al colpo E prossimo partecipante Ai campionati del mondo E Federica Urgesi Vice campionessa italiana Di singolo E campionessa italiana Di doppio Under 11 Di tennis Attribuite anche Due stelle Al merito sportivo A Maurizio Nardini Presidente del CSI Delfino E Sandro Goffi Colonna portante Dell'Alma Juventus Fano ciclismo Premiata anche Costanza Michelini Ragazza di Sant'Ippolito Che milita nella società Alma Juventus Fano ginnastica E prima dei saluti Questa sera Vi mostriamo le immagini Della nuova Beach House Impianto sportivo fanese Che ieri ha inaugurato Un nuovo ciclo Dopo qualche mese Di inattività Infatti Lo stabilimento Per la pratica Di beach volley Beach tennis E foot volley Di Viale Romagna A Fano Ha riaperto i battenti Con una nuova squadra Al comando Al taglio del nastro Anche l'assessore allo sport Caterina Del Bianco Che assieme ai tanti intervenuti Ha potuto assistere Alle esibizioni Dei più forti atleti nazionali Di beach volley Beach tennis Primo impegno ufficiale Per la nuova Beach House Il doppio maschile In programma Domenica prossima Ed inserito All'interno Del circuito amatoriale Provinciale Beach tennis Winter Tour Organizzato dalla SD Sportland E con gli in bocca al lupo Ai ragazzi Della nuova Beach House Per questa nuova gestione Si conclude qui L'appuntamento Con lo sport Di Fano TV Vi ricordiamo Come sempre Anche se ormai Lo conoscete L'indirizzo internet Dove inviare Le vostre segnalazioni Che è Sport Chiocciola Fanotv.it Non ci sono altre notizie Per questa sera L'appuntamento Con lo sport Di Fano Ed intorni Torna lunedì prossimo Una buona serata E con lo sport Chiudiamo qui Grazie alla redazione sportiva Chiudiamo qui Il nostro telegiornale Grazie per averci seguito A voi tutti L'augurio di una buona serata Arrivederci Grazie a tutti Grazie a tutti